NOLENTEN TRAUNT Camminarono a lungo attraverso strade vuote e silenziose, immerse nella stessa poschia che circondava Grimmaule Place. Non c'erano cartelli o punti di riferimento che consentissero a Harry di capire dove si trovasse, solo la chioma scura di Audrey che lo guidava, finché a un tratto non giunsero dinanzi a un cancelletto basso affiancato a una ricensione di metallo. Al di là di essi c'era l'unico spazio sgombro dalla nebbia che avessero incontrato fino a quel momento. Un piccolo parco dall'aria dismessa, con due altalene sghembe, uno scivolo alla cui scala mancavano diversi gradini e un paio di panchine in pietra addossate di lato. Tutto dall'erba ai giochi appariva bianco e nero, come in uno dei rari film babbani che Harry aveva visto dai Dursley quando era bambino. Gli unici punti di colore erano lui e Audrey. Lei spinse il cancelletto, che si aprì senza alcun cigolio, e si diresse verso una delle panche. Harry restò immobile a guardarla mentre si sedeva, aggiungeva le mani in grembo e gli faceva cenno con la testa di avvicinarsi. Avrebbe tanto voluto andarsene, e subito. Durante la camminata aveva avuto tutto il tempo di farsi un'idea su quanto gli stesse accadendo, cosa non facile perché il suo corpo e la sua mente sembravano sospesi nell'irreale leggerezza di un sogno, e l'ipotesi a cui era giunto non gli piaceva affatto. Gli faceva dolere un punto imprecisato dietro lo sterno, lì dove amava immaginare che ci fosse la sua anima. raccolse il coraggio e si avvicinò alla panchina, fermandosi in piedi davanti alla donna. «Tu non sei, Audrey, vero?» mormorò, la voce che risuonava in modo strano nell'aria ferma. Lei alzò le sopracciglia, poi scosse la testa. «No», la rispose con un sorriso. «Abbiamo pensato che vedere un viso familiare ti avrebbe aiutato a parlare con noi. Sei un divoratore?» Il sorriso scomparve. «Quello è il nome che ci ha dato Edgar Varnos, ma non è il nostro nome». Accennò alla panchina con una mano. «Siediti, per favore». Riluttante, Harry obbedì. La consapevolezza di trovarsi davanti a uno degli esseri responsabili degli omicidi li riempiva di soggezione. Ma allo stesso tempo non riusciva a essere spaventato. Era Varnos ad averli evocati e usati. Era lui il vero colpevole. Per quanto ne sapeva, i divoratori o qualunque cosa fosse il loro nome, erano vittime a loro volta di quell'uomo. Sedetto sul bordo della panchina. Avrebbe voluto tenersi a distanza, ma allo spazio era limitato e si ritrovò comunque a pochi centimetri da lei. La vicinanza gli fece notare un dettaglio che prima gli era del tutto sfuggito e che lo fece arrossire furiosamente e spostare lo sguardo altrove. «Non devi avere paura, Harry Potter. Non intendiamo farti del male. Non è questo, è che... è che sei uguale a mia cognata morta e sei praticamente nuda». Le lanciò un'occhiata di sbiego. La camicia da notte bianca lasciava pochissimo spazio all'immaginazione. «Potresti coprirti, per favore?» La donna restò in silenzio per qualche secondo. «Coprirmi?» domandò poi, dubbiosa. «Sì, e insomma... cambiare aspetto?» A giudicare dal modo in cui aggrottò le sopracciglia, la richiesta doveva suonarla incomprensibile. «Questo è il ricordo più vivido che abbiamo di Audrey Bennett», rispose. «Perciò l'abbiamo scelto. Ma se ti concentri puoi sostituirlo con uno dei tuoi. Cosa? Avanti, provaci!» Merlino. Quello sguardo incoraggiante era così da Audrey che colpì Harry come uno schiantesimo. Chiuse gli occhi e si sforzò di trovare un'immagine di lei che non fosse tra quelle che lo tormentavano da giorni. Non voleva rivederla devastata come all'obitorio o sanguinante come nello studio. Si soffermò per un attimo sul rosso e blu del suo abito nuziale, ma lo scartò in fretta nel momento in cui si rese conto che l'avrebbe fatto pensare a Percy. Alla fine ritrovò il ricordo giusto. Riaprì gli occhi e si girò. Accanto a lui Audrey aveva i capelli raccolti in una treccia seminispatta e indossava un lungo maglione color senape, in stridente contrasto con i jeans buxia. «Meglio?» gli chiese lei. «Sì, molto meglio». Faceva sempre male, ma era più sostenibile di prima. Harry si schiarì la gola e sbatte le palpebre più volte per attuonare il pizzicore agli occhi. «Dove siamo?» chiese guardandosi attorno. «Londra, in Gran Bretagna». «Sembra diversa». «Perché non è la tua Londra. Siamo altrove rispetto al tuo piano dell'esistenza». Granò agli occhi. «Altrove! Questo è l'altrove!» «Diavolo! Ne aveva sentito parlare così tanto nelle ultime settimane. Se lo aspettava diverso a dire la verità, meno britannico». «Una altrove!» corrasse lei e un piccolo sorriso apparve sul suo volto. «Uno che possiamo ancora raggiungere. Chi abbiamo evocato noi qui?» «Mi avete evocato?» «Certo!» «Anche gli umani possono essere evocati». Le sue labbra si strinsero. «Se voi potete evocare noi, noi possiamo evocare voi». «Ottima osservazione». «Perché l'avete fatto?» Prima che lei potesse rispondere, l'aria attorno al loro sfrigolò, attraversata da un'energia che fece vibrare l'intero parco e rizzare i peli di erri in tutto il corpo. «Che succede?» balzò in piedi e si guardò attorno, allarmato. «Cos'è questo?» La vibrazione continuò per diversi secondi, per cessare all'improvviso così come era iniziata. Harry attese immobile, guardingo, ma l'aria sembrava di nuovo surrealmente ferma come prima. Allora si girò verso Audrey e la vide piegata su se stessa, la testa nascosta fra le braccia. L'immagine gli ricordò la sua agonia nello studio e gli stritolò il cuore in una morsa. Distinto fece per allungare una mano nella sua direzione, ma prima che potesse raggiungerla, lei sollevò la testa e lo guardò con occhi pieni di lacrime. «Ci costa molto essere qui a parlare con te, Harry Potter», disse in un sussurro. «Quindi per favore ascoltaci, abbiamo bisogno che ci ascolti». Per lì, no? Anche l'espressione supplichevole era la stessa. Harry aprì la bocca per risponderle, ma fermato da un pensiero che l'attraversò come un brivido. «Non farei cazzate, Potter. Non è Audrey. Sembra lei. Parla come lei. Ma non è lei. È un divoratore vincolato a Barnos». Chiuse la bocca e deglutì. «Vero, non era Audrey. Era facile dimenticarselo, ma era evidente. Ora che si era raddrizzata, sedeva con una rigidità innaturale. Le sue mani non gesticolavano. Non sbatteva nemmeno le palpebre. Non era Audrey, e lui avrebbe fatto bene a ricordarlo». «D'accordo». Si mise seduto con cautela, attento a non sfiorarla. «Vi ascolto». Audrey, no. Si impose di pensare la creatura. Fece un cenno col capo, come a ringraziarlo. Dopodiché prese fiato e iniziò a parlare. «Ti abbiamo evocato per discutere con te dei piani di Edgar Barnos. Conosci già gli scopi per cui ci ha legati a sé. Harry annui. Ha detto che vi nutrite dei bambini per riportare indietro il tempo». «Sì. Per ordine di Edgar Barnos stiamo raccogliendo la loro energia vitale e la useremo al momento opportuno per rimodellare il vostro tempo. A meno che...» «Ah, ecco dove stiamo andando a parare». «A meno che io non accetti l'accordo con lui, giusto?» Completò con una nota di sarcasmo che passò inosservata. «Sì. Se acconsentirai, Edgar Barnos predisporrà un rituale per farti tornare a prima della morte di Audrey Bennett». «Non intendo farlo», scattò Harry stringendo i pugni. «Dite questo al vostro padrone, che non accetterò la sua proposta e che poteva risparmiarsi la fatica di evocarmi. Non mi manipolerà mai più». «Quel figlio di puttana. Tutta quella pantomima, degno compare di quello strons di Viridios, giustamente. Per cosa? Per commuoverlo con la vista di Audrey e convincerlo a fare ciò che voleva lui, spingendolo di nuovo a seguire i suoi piani? Col cazzo!» Il diperatore non percepì la sua rabbia. Se lo fece, l'accolse con la massima indifferenza. «Non siamo qui per ordine di Edgar Barnos», replicò in tono calmo. «Ti abbiamo evocato per nostra volontà». «Ah sì? E come avreste fatto? Barnos ha detto che siete vincolati a lui, che seguite la sua volontà». «Sì, è vero. Ma dovevamo parlare con te, perciò abbiamo trovato un modo». Di nuovo lo sfrigolìo, più breve ma anche più intenso di prima. L'aria si accartocciò e stavolta Harry vide il dolore sul volto della creatura. «E ci sta costando molto, Harry Potter. Molto di più di quanto credi», ripete lei tra i denti non appena fu passato. «Perciò ti preghiamo di ascoltarci. Non siamo noi i tuoi nemici». Che fare? Non aveva molta scelta. Da solo non avrebbe saputo come lasciare quel luogo, né era certo che la sua magia funzionasse lì. Poteva solo ascoltare. Fissò gli occhi grigi di Audrey ancora per qualche secondo. Infine annui e rivolse il capo verso le altalene. «Se direi di sì», riprese lei come se nulla fosse stato, «Edgar Barnos predisporrà il rituale. Ti condurrà a casa sua, ti consegnerà il suo marchio». Un lampo passò davanti agli occhi di Harry, un ricordo. «L'uroboro antropomorfo al centro del palmo sinistro, proprio tra la linea della vita e quella del cuore», scosse la testa. Una cosa del genere non era mai accaduta. «E proverà a farti tornare indietro con tutti i tuoi ricordi, fino alla sera in cui abbiamo ucciso Audrey, Bennet e sua figlia». La voce della creatura parve incrinarsi sul nome di Audrey, ma un attimo dopo era tornata normale. Però non funzionerà. Harry la guardò e aggrottò la fronte. «Che significa?» «Quando compirà il rituale, Edgar Barnos cancellerà gli eventi delle ultime settimane. Il tempo tornerà indietro fino al giorno successivo alla morte di Juliana Buston, e tu ti ritroverai seduto accanto al marito di Audrey, Bennet, senza alcun ricordo di tutto questo. Ti verrà assegnato il caso, svolgerai le indagini e rivivrai ogni avvenimento di nuovo, fino al funerale. Quando in preda alla disperazione deciderai di rivolgerti a Edgar Barnos. Lui predisporrà il rituale, fallirà e il ciclo ricomincerà da capo». Il silenzio che calò somigliava a quello del cimitero. Niente vento, niente uccelli, nessun tipo di suono a interromperlo. Solo i pensieri di Harry lo riempivano, roboanti come una cascata. «Come?» si schiarì la gola sciotta. «Come sapete che accadrà tutto questo?» domandò poi, anche se da qualche parte dentro di lui la risposta esisteva già. La creatura stirò le labbra in quello che, se fosse stata davvero oderi, sarebbe apparso come uno dei suoi sorrisi da sfinge. «Lo sappiamo perché è già successo, Harry Potter. Molte, molte volte. Che vuoi dire? Che...» si fermò, il cervello inceppato sull'enormità del pensiero che voleva formulare. «Che siamo in un... in un... in un circolo, esatto. Il serpente che si morde la coda, per usare uno dei vostri simboli». «Il tempo si sta ripetendo di continuo». «No, no, 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 è folle, non può essere». «Sì, è da moltissimi cicli ormai». Finisce sempre con il rituale di Edgar Varnos e inizia sempre con Harry Potter nel corridoio davanti all'ufficio del ministro. «Ancora e ancora». «No, no, 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 no. Non ha senso, non ha nessun senso». «Eppure sì». «Ma... ma come?» farfugliò, troppo sconvolto per articolare una domanda più precisa. «Com'è possibile?» «La teoria di Edgar Varnos è corretta. La realizzazione è sbagliata. Ha commesso un errore nella composizione del rituale e questo è il risultato». «E lui non lo sa». «Edgar Varnos non sa niente. A ogni ciclo perde la memoria dei precedenti, come tutti voi. Solo noi ricordiamo perché noi non subiamo le conseguenze del tempo, a differenza vostra». «La calma imperturbabile della creatura contrastava con il panico che Harry si sentiva montare dentro». «Cazzo». Non riusciva a pensare ad altro a quanto cazzo fosse assurda quella storia. Doveva essere un'indagine su un assassino seriale. Era diventata una caccia a esseri soprannaturali. Adesso... adesso scopriva che in realtà era nel bel mezzo di un casino temporale che durava da chissà quanto e di cui nessuno sapeva nulla. «Cazzo». Si prese la testa tra le mani in un vano tentativo di fermare le vertigini. «Perciò se accetto anche stavolta di tornare indietro per salvare Odri, l'esperimento fallirà e tutto ricomincerà da capo». «Cazzo», gemette massaggiandosi il viso. «Cazzo, cazzo, cazzo!» Continuò a imprecare tra sé, sotto lo sguardo silenzioso e penetrante del divoratore finché l'ondata di shock non fu passata. Allora si costrinse a recuperare un minimo di freddezza e di controllo. «D'accordo. La situazione era più incredibile che avesse mai affrontato. Ma le creature gli stavano parlando, no? L'avevano evocata apposta, nonostante per loro avesse un prezzo. Magari c'era un modo per sistemare tutto». Con un respiro profondo rialzò la testa e guardò il divoratore. «Perché mi state dicendo tutto questo? Per mettermi in guardia o…» «Anche, è giusto che tu sappia cosa vai incontro, ma soprattutto…» La creatura sospirò, perdendo un po' della sua rigidità con cui stava seduta accanto a lui. «Siamo stanchi, Harry Potter. Molto stanchi. Essere legati a Edgar Varnos e costretti in una dimensione che non ci appartiene. Rivivere tutto, ciclo dopo ciclo. Non ne possiamo più. Abbiamo promesso che questa sarà l'ultima volta». Guardò Harry negli occhi per diversi secondi. Infine distolse lo sguardo e lo puntò verso la nebbia oltre il cancelletto. Qualsiasi diffidenza avesse provato l'auror poco prima, in quel momento cedette il passo alla pietà, mentre pian piano gli ingranaggi del suo cervello tornavano a ruotare con più decisione che mai. «Quindi volete interrompere la ripetizione degli eventi che scatta quando Varnos compie il rituale per riportarmi indietro nel tempo, giusto?» sintetizzò, ottenendo un ceno affermativo dalla creatura. «Allora perché non dite semplicemente a Varnos che il suo rituale è sbagliato». Lei girò di scatto la testa e fissò Harry con rabbia. «Non aiuteremo mai, Edgar Varnos», si bilò. «Non l'umano che ci ha costretti a questa vita. Se glielo dicessimo continueremmo comunque a essere i suoi schiavi e noi non lo vogliamo». Harry alzò le mani. «Va bene, d'accordo. Allora, se il problema è il rituale, mi basterà rifiutare di prendervi parte, giusto. Così non si cancelleranno le ultime settimane. Ma se rifiuti, Edgar Varnos continuerà con l'altro esperimento e noi dovremo proseguire con gli omicidi e far tornare il tempo a sette anni fa». La bocca di Harry si seccò. «Potete farlo davvero? Non ci sono errori in quello». E il divoratore fece geno di no. «Non ci sono errori». «Cazzo». «Allora dobbiamo liberarvi», scattò in piedi e si mise davanti a lei. «Se riusciamo a slegarvi da Varnos...» «Abbiamo già provato. È impossibile. Il suo potere è su di noi. Ma ci avrete provato da soli. Magari possiamo chiedere aiuto a...» «Non eravamo soli». Il divoratore lo guardò e il suo volto fu attraversato dall'ombra di un sorriso. «Odry Bennett ci ha aiutati». «Odry». «A noi». Si alzò in piedi e mosse qualche passo verso le altalene, le braccia incrociate, le spalle rivolte verso Harry. «Quando Edgar Varnos ci ha vincolati a sé, abbiamo cercato sin da subito di liberarci dal suo potere. La sua magia però è troppo forte, troppo estranea la nostra, troppo umana». Si voltò a guardarlo. Merlino, quanto somigliava a Odry in quel momento. «Così abbiamo evocato un umano in questo altrove per chiedere il suo aiuto. Anche allora ci è costato molto. Avete evocato Odry?» «Era la madre di una delle bambine che Edgar Varnos voleva coinvolgere nel piano. Ed era una studiosa come noi. Pensavamo ci avrebbe aiutati a slegarci dal vincolo, o perlomeno a fermare l'esperimento». «Che senso?» Harry scosse la testa. Avrebbe approfondito dopo il significato di studiosa come noi. «Perdonami, continua. Le abbiamo parlato di Edgar Varnos e le abbiamo spiegato dove trovare il libro in cui aveva scritto tutto. Lei è andata nella stanza del tempo e ha visto il simbolo del loro boro umano sulla parete. Non sapevamo...» Abbassò la testa. «Non sapevamo che Edgar Varnos sarebbe stato lì. Ha capito che ci eravamo messi in contatto con lei e dopo averla legata e mandata via ci ha puniti, ordinandoci di ucciderla l'indomani». Tacque. «Questo è successo la prima volta, durante il primo ciclo», l'incalzò Harry. «Sì. Quando poi il rituale ha innescato il circolo, credevamo che Audrey Bennett non avrebbe più ricordato nulla. Invece la sua mente era aperta e deve aver trattenuto qualcosa nonostante tutto, perché in ogni ciclo lei sogna l'uroboro e in ogni ciclo va nella stanza del tempo a cercarlo». «Evarnos pensa ogni volta che voi l'abbiate contattata», concluse Harry. Così si spiegava un altro mistero, come avesse fatto Audrey a conoscere l'uroboro umano se non l'aveva visto quando lavorava la giratempo. «E ogni volta ci punisce», mormorò il divoratore, sempre fissando a terra le mani che stringevano forte le braccia. «Ogni volta siamo costretti a uccidere Audrey Bennett!» «Ancora e ancora! Anche se ci siamo guardati bene dal coinvolgerla di nuovo!» C'era una nota di dolore nella sua voce che lasciò Harry interdetto. «Perché uccidere Audrey sarebbe una punizione?» «Voi già lo fate, no? Uccidere intendo». «Uccidere i bambini per un esperimento!» Sbottò. «Le loro morti hanno un senso. Invece, senso!» Per un attimo Harry fu tentato di avvicinarsi a lei e squaterla. «Le morti di quei bambini avrebbero un senso!» «Certo, sono essenziali per l'esperimento di Edgar Varnos. La morte di Audrey Bennett invece è uno spreco di energia vitale. Inoltre, sospirò, noi non siamo irriconoscenti. In molti cicli ha provato a liberarci, a bandirci, a farci tornare a casa nostra in qualsiasi modo. Doverla uccidere sempre, quando prova sempre ad aiutarci, è peggio che una punizione per noi». Diceva il vero, Harry poteva avvertirlo con chiarezza. Era disturbante osservare quanto le importasse di Audrey e quanto poco si curasse dei bambini, ma con grande sforzo poteva capirla. Non era umana dopo tutto. Incrociò le braccia, imitando la posa di lei, e si mise a camminare a capochino. Se liberare le creature era davvero impossibile, serviva un'altra idea. Era del tempo che si stava parlando, quindi doveva ragionare in base a quello che sapeva in proposito. Ma cosa sapeva lui del tempo? «I maghi che hanno a che fare col tempo non possono interferire con gli eventi», riflette ad alta voce, mentre nella sua testa si formava l'immagine di un ermione quattordicenne. Qualsiasi tentativo di modificarli potrebbe avere conseguenze inaspettate. Si fermò e guardò il divoratore. «Se cambiassimo qualcosa nella sequenza degli accadimenti? Hai detto che i cicli si ripetono sempre uguali, perciò una modifica potrebbe… non so…» «Se bastasse l'avremmo già fatto», l'interrompe la creatura. «Anzi, l'abbiamo fatto, ti abbiamo evocato, ed è la prima volta che lo facciamo». «Ma questo da solo non rompe il circolo. Il tempo non è… non è rigido, capisci?», aggiunse con foga. Come Audrey quando spiegava qualcosa di importante. «È un essere vivente che si adatta a ciò che lo circonda, solo che voi umani non lo comprendete perché li vivete dentro. Prendi i cicli, per esempio, non è vero che sono tutti uguali?» «Ah no?», scosse il capo. «Alcuni eventi sono fissi e avvengono sempre alla stessa maniera, altri invece cambiano a seconda delle circostanze. Piccoli dettagli che non vanno a influire sugli accadimenti principali». «A volte ti reghi da Edgar Varnos subito dopo il funerale. Altre volte aspetti qualche giorno. A volte parli con il marito di Audrey Bennett prima che prenda la passaporta. A volte te ne vai subito. A volte tua moglie concepisce una femmina, a volte un maschio». «Cosa?» «Ginny è incinta!» «Ma i punti chiave restano identici. Tu scopri sempre Edgar Varnos e decidi sempre di tornare al passato. E...» Il divoratore strizza i denti. «E noi uccidiamo sempre Audrey Bennett. Queste cose non cambiano mai!» Si voltò e si avviò con decisione verso la panchina, lasciando Harry inebetito ad assorbire la pretora di informazioni che gli erano piovute addosso. Gli servì tutta la sua forza di volontà per non bloccarsi sul pensiero di Ginny. «Incinta? Da quando? Lo è già? Lo sarà?» E riscuotersi quel tanto che bastava per analizzare il resto della situazione. Una situazione assolutamente di merda. Non poteva accettare la proposta di Varnos. Non poteva rifiutarla. Non poteva liberare i divoratori. Non poteva modificare la ripetizione di cicli. Ma allora... Forse c'è una soluzione. La creatura si era rimessa seduta e lo fissava con intensità. «Non siamo tutti d'accordo, perché per noi è molto rischiosa». «Ma non abbiamo alternative se vogliamo essere liberati. Devi aiutarci tu, Harry Potter». «Una soluzione?» Il cuore di Harry gli saltò dritto in gola. «Certo!» rispose Digetto, avvicinandosi a lei. «Ditemi cosa devo fare». Ci fu un'esitazione da parte del divoratore. Breve ma evidente. Infine disse «Devi andare da Edgar Varnos e accettare la sua offerta». «Cosa cazzo? Cosa? Ma... ma... se hai detto... non preoccuparti. Sappiamo qual è l'errore commesso da Edgar Varnos e possiamo sistemarlo. Quando parteciperai al rituale faremo in modo che avvenga correttamente e ti riporteremo alla notte in cui abbiamo ucciso Audrey Bennett con tutti i tuoi ricordi». «Ah, ecco. Ora aveva più senso. E poi?» «Nel corso dell'ultimo ciclo, quello che stiamo vivendo adesso, siamo riusciti a sviluppare un rituale per contro nostro. Uno che non ci libererà, ma ci consegnerà un altro padrone. L'abbiamo scritto lì». Fece un cenno con la testa verso Harry, indicando una tasca del suo mantello. «Nel libro di Edgar Varnos». Harry portò automaticamente una mano alla tasca. Non si era reso conto di avere ancora il libriccino dell'Edax Rerum addosso. «Avete... avete sviluppato un rituale. Siete in grado di farlo?» «Non te l'ho detto. Siamo studiosi, come Audrey Bennett, e l'aver trascorso così tanti cicli nel vostro mondo e ci hai insegnato qualcosa della vostra magia». Accennò di nuovo al suo mantello. «Dopo che l'avrai salvata, ti farai aiutare da lei e suo marito a predisporre il rituale che abbiamo composto. Una volta che l'avrai compiuto saremo sciolti da Edgar Varnos e vincolati a te». «E potrò liberarvi. È ciò che speriamo tu faccia». Una nuova scossa attraversò l'aria e stavolta anche Harry lo sentì, uno stridio acuto che gli trapassò le orecchie risuonandogli dentro le ossa. Durò solo pochi istanti, bastevoli però a farlo gemere dal dolore e nascondersi la testa tra le mani, e quando riuscì a riaprire gli occhi vide che la creatura era ancora piegata in due della sofferenza. «Dobbiamo andare, anzi mollèi, alzandosi di scatto. L'accordo è questo, Harry Potter. Prometti di liberarci e noi interromperemo il circolo e ci vincoleremo a te. Altrimenti Edgar Varnos continuerà col suo esperimento. Tuo figlio e gli altri bambini moriranno e il tempo tornerà sette anni fa». «Non mi stai dando una gran scelta, eh?» Nonostante ciò, una parte di Harry fece resistenza. «Come faccio a sapere che è tutto vero?» chiese. «Come faccio a sapere che questo non è un tentativo di Varnos di manipolarmi, di farmi fare ciò che vuole?» Calò un lungo silenzio, durante il quale il divoratore lo fissò col suo sguardo che non si chiudeva mai. A un tratto gli si avvicinò, e per la prima volta da quando era stato evocato Harry sentì la creatura, o le creature. Fino a quel momento si era concentrato sull'apparenza di Audrey, sulla sua fisicità umana, ma ad esso avvertiva il potere di quegli esseri antichi e sconosciuti spandersi a ondate di addietro la figura di sua cognata. «E noi come possiamo sapere che non ci tradirai?» rispose il divoratore, con voce calma ma piena di energia. «Che manterrai la promessa di liberarci una volta che saremo tuoi? Ci stiamo affidando a te, Harry Potter. Il minimo che tu possa fare è ricambiare la nostra fiducia.» Anche i suoi occhi stavano cambiando. Il grigio gentile di Audrey si era scurito, sostituito lentamente da un nero sempre più profondo. Harry pensò che avrebbe potuto caderci dentro se non stava attento. «Perché io?» mormorò, pentandosene subito. Domanda del cazzo. Sapeva benissimo perché. Varnos voleva lui e lui soltanto per l'esperimento, perciò nessun altro avrebbe potuto aiutare i divoratori al posto suo. Fu però sorpreso da una risposta del tutto diversa da quella che si aspettava. «Perché ti abbiamo osservato a lungo, Harry Potter», disse infatti la creatura con un accenno di sorriso. «Ti osserviamo da centinaia di cicli e la maggioranza di noi ha concluso che possiamo fidarci di te, che non ci tradirai». L'oscurità nei suoi occhi si accentuò. «Abbiamo ragione?» Cos'altro poteva dire? «Chi non è il capo?» «Sì, avete ragione. Andrò da Varnos e quando sarete vincolati a me prometto di liberarvi». Con suo enorme stupore la creatura tirò un grosso sospiro di sollevo. «Ti ringraziamo, Harry Potter», mormorò e subito aggiunse. «Abbiamo un'altra richiesta». Per tutta risposta Harry aggrottò la fronte. «A eccezione di Edgar Varnos, nessuno deve sapere che ti abbiamo riportato indietro», continuò il divoratore. «Nemmeno Audrey Bennett, quando la rivedrai. Questo devi giurarcelo». «Nemmeno Audrey, ma perché?» «Meno umani conoscono la nostra magia, più siamo al sicuro. Non vogliamo più essere l'esperimento di nessuno». «Ah, se li capiva». Harry annuì e stava per dire qualcosa quando una vibrazione più forte delle precedenti sconquassò l'aria. Cadde in ginocchio, le orecchie lacerate dal rumore più lancinante che avesse mai udito, mentre attorno a lui il bianco e il nero esplodevano impazziti e cominciavano a vorticare, sempre più forte, sempre più veloce. Finché non si ritrovò sull'erba, in mezzo a un parco giochi di smesso nella periferia di Londra, con un bel cielo azzurro sopra di sé e il vociare di gente dai palazzi attorno. Grazie.